Attimi di paura e stupore stamattina nella parte finale di Via Gela, dove si è registrato uno spettacolare, fortunatamente senza gravi conseguenze, incidente autonomo. Una Peugeot 207 guidata da un anziano, dopo aver investito un'auto in sosta, si è infatti ribaltata scivolando a testa in giù per diverse decine di metri sull'asfalto. Il conducente, a parte una contusione alla mano, non ha riportato altre conseguenze fisiche, anche se è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo ad alto passo per accertamenti. Sul posto, al momento del sinistro, si trovava di passaggio una gazzella della stazione dei Carabinieri di Via Salvo d'Acquisto. I militari hanno prestato i primi soccorsi all'anziano e regolato momentaneamente la viabilità stradale. Subito dopo è giunta in Via Gela la Polizia Municipale, che ha eseguito i primi rilievi di rito per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. È verosimile che il conducente abbia perso il controllo della propria vettura, urtando l'auto in sosta lungo Via Gela e dando vita alla spettacolare carambola che ha portato al cappottamento della sua Peugeot. A giudicare dalle immagini e dalla posizione assunta dall'utilitaria, sembra davvero incredibile che l'uomo alla guida non abbia riportato nulla di grave. Il mezzo è stato successivamente rimosso da un carroattrezzi e già a metà mattinata la circolazione automobilistica da e per Via Gela è ripresa in maniera regolare.